Buonasera a tutti. Sono proprio contenta di essere qui questa sera con i miei amici Giorgio De Silva e Riccardo Bedrone con tutti gli amici che vedo in sala e che sono venuti ad ascoltarci e a ascoltare il racconto del bellissimo libro di Giorgio. Mi devo scusare con voi perché sono un po' acciaccata perché stamattina camminando sono caduta con una peracotta e ho battuto la faccia per terra. Ve lo dico solo perché non pensiate, ho bascherato un po', ma ve lo dico solo perché non pensiate che mio marito mi picchia o cose di questo genere che non sarebbero reali. Ma veniamo, questo vuol dire che dovrò fare dei buoni propositi per questo anno e camminare di più così magari non casco come una pera come mi è successo questa mattina. Ma veniamo al motivo per cui siamo qui, per cui io sono qui. Io sono il, come molti di voi sanno, il presidente di Inac Piemonte, no scusate, devo dire la presidente di Inac Piemonte perché ho promesso a mia figlia che non avrei mai più usato il maschile per definirmi. Architetto, sì, per me architetto è ancora una parolaccia, quindi sono di quella generazione lì. Ho perso il filo, no, dicevo, sono la presidente di Inac Piemonte, adesso vi farò un brevissimo pistolotto su che cos'è Inac Piemonte dei pochissimi di voi che non mi hanno ancora sentito fare questo piccolo racconto perché ci tengo a farlo tutte le volte, soprattutto per spiegare che Inac non è una cosa da architetti, è un istituto culturale nato nel 1972 su un'idea di Bruno Zevi per mettere insieme tutti coloro che hanno a che fare con l'architettura e la costruzione della città. Quindi fanno parte di Inac Piemonte progettisti, ingegneri, cittadini, persone che amano l'architettura. Questo ve lo racconto perché da quando siamo nati nel 2017 abbiamo cominciato a lavorare molto sulla comunicazione e abbiamo messo su, oltre che un sito, anche una newsletter che adesso esce con cadenza mensile che molti di voi, visto che ci conosciamo, riceveranno nella casella di posta. Questa newsletter contiene non solo gli appuntamenti ma soprattutto dei piccoli racconti o dei piccoli approfondimenti di carattere divulgativo e scientifico. Tra questi c'è una rubrica che grazie a Giorgio ha una grande continuità perché è un cinefile, uno scrittore inarrestabile e riusciamo a pubblicare ogni mese un pezzetto della rubrica Architettura nel cinema da cui questo libro credo abbia preso il nome. Fino adesso abbiamo pubblicato 52 articoli su 52 film. Ne ho nel cassetto grazie alla quantità di pezzi che Giorgio mi ha mandato, altrettanti, quindi posso andare avanti per un sacco di tempo, per fortuna. Questi 52 articoli hanno dei tassi di lettura altissimi. Questa è una cosa su cui vale la pena secondo me riflettere perché io ogni tanto controllo i tassi di lettura nel nostro sito e nella nostra newsletter e abbiamo più di un migliaio per ogni articolo di lettori con la punta massima che è stata per intrigo internazionale che ha raggiunto i 7.000 lettori che per una realtà piccola come la nostra, a distribuzione sostanzialmente regionale, sono numeri altissimi. Quindi è capita tutti i giorni che qualcuno ritorni sul sito e la maggior parte delle volte legge o rilegge un articolo di Giorgio. Quindi questo secondo me è molto significativo. Ma al di là di questi aspetti che sono interessanti, ci motivano nell'andare avanti in quello che facciamo, ci sono alcune cose che vorrei dire sugli articoli di Giorgio. Intanto che ogni volta che incomincio a leggere un articolo scopro delle cose che non conoscevo o dei film che non conoscevo o delle architetture che non conoscevo o che non avevo mai associato a quel film. E questa è una cosa bellissima dal mio punto di vista. L'altra cosa è che, come dire, negli articoli di Giorgio c'è questo intreccio continuo tra il film, il racconto e la sua vita. Ci racconta che va in bicicletta, ci racconta i posti che ha visto, e ci racconta dei pezzettini della sua vita. Ma soprattutto in questi articoli c'è un intreccio molto forte tra l'architettura e l'acconto della storia del film e la genesi del film. L'architettura non è soltanto uno sfondo, una scenografia. Diventa una coprotagonista del film attraverso le parole di Giorgio. Così la scopriamo in maniera diversa anche rispetto a come la conoscevamo prima di aver letto i suoi pezzi. Questo intreccio, e lui spesso lo porta anche sulle vicende più quotidiane o comunque più torinesi, con qualche puntatina a volte un po' polemica sulle vicende torinesi un po' più scabrose. Ma a questo punto lascerei a Riccardo la parola che ha scritto la prefazione del libro L'architettura nel cinema, edito da Lindau, e che forse ci racconta anche qual è la genesi di questa storia dell'architettura nel cinema. Giorgio, lo conosco da quando eravamo studenti, quindi credo che stiamo parlando degli anni 60, sono più di 60 anni. È sempre stato un tipo fuori delle regole. Geniale, quando faceva di mestiere il designer e il pubblicitario ha sempre fatto delle cose bellissime e quindi so che qualsiasi cosa si mette in testa di fare, la fa. È un po' lento decidere. È successo questo. Quando è nata questa rivista dell'INARC, qualche anno fa, avevo proposto a Paola di irrobustirla con qualche rubrica fissa. Poi così non siamo riusciti a fare. Ma una certezza c'è stata. Quella di Giorgio. Ed è nata in questo modo. Di Giorgio so molte cose, e a parte l'apprezzamento personale per le sue capacità, per la sua fantasia, per la sua brillantezza, sapevo anche che è stato un cinefilo, è tuttora un cinefilo apprezzatissimo. È stato tra i fondatori del Movie Club, che ha una storia straordinaria nel panorama delle associazioni culturali torinese. Credo che abbia anche fatto parte del Consiglio di Amministrazione del Museo del Cinema, o sbaglio? No, no. Sono nato. Solo? Un po'. Durato la comunicazione per cinque anni. Comunque. Allora gli ho detto, usa queste tue capacità come creativo, grande creativo, e come cinefilo esperto, che quindi conosce anche il linguaggio cinematografico, per scrivere qualche volta sull'architettura, sull'architettura del cinema. Io apprezzo molto i film in cui lo sfondo, ma non solo lo sfondo, spesso l'architettura non fa da sfondo, ma è anche protagonista, e quindi gli ho chiesto di provarci. Non ne voleva sapere. Perché temeva di diventare un personaggio troppo noioso. Non voglio fare il critico cinematografico, che scrivono delle parolone, che poi non annoiano tutti, non voglio fare l'intellettuale. Insomma, ci ho messo un po'. Alla fine ci sono riuscito, anche perché, quando è andato in pensione, lui è stato colto da una sorta di malinconia, e la sfogava semplicemente costruendo delle cose che lui chiama Tanzen. Credo che la scheda numero 75 del libro spieghi che cosa sono i Tanzen. Ecco, sono delle costruzioni immaginarie che hanno cominciato dall'altezza di 20 centimetri e adesso hanno superato i vatussi come altezza. Praticamente ha costretto la moglie a uscire di casa per farceli stare tutti e gli ho detto smettila con i Tanzen e comincia a scrivere. Non l'avessi mai fatto. Perché lui ha cominciato a scrivere, ma poi non si è più fermato. Faceva due, tre pezzi al giorno. Gli ho detto che mi sembrava a un certo punto Topolino nel film fantasia quando spezza la scopa che porta i secchi con l'acqua e alla fine se ne ritrova mille. Ecco, lui è stato questo. Però sono tutte godibili queste cose. Ha cominciato, non ha più smesso e ne è venuto fuori questo libro bellissimo. Mi è venuto voglia di scrivere la prefazione perché mi pareva necessario in qualche modo introdurre il lettore alle schede e non partire subito con quelle. Però da una prefazione che doveva aprirsi con due pagine, non di più, è diventata di 30, 30 pagine. Lui si lamenta che era rubato dello spazio, ma secondo me però qualche cosa di utile l'ho scritto anche per evitare che tutti quanti pensassero che prima di Giorgio nessuno mai si fosse occupato del rapporto fra cinema e architettura. Ci sono stati molti nella prefazione, io li cito, e racconto in che modo a poco poco questo rapporto nel corso degli anni, già a partire dagli anni 20, si è consolidato non solo perché c'era una particolare predilezione da parte dei registi verso le architetture che potevano in qualche modo caratterizzare il film, ma anche all'opposto da parte degli architetti che vedevano immortalate le loro opere all'interno delle narrazioni cinematografiche. Nella prefazione quindi c'è un po' lo sviluppo storico di questo rapporto e poi soprattutto dagli anni 2000 una sorta di esplosione di studi, di ricerche e come se vent'anni fa complice una serie di film sull'architettura che era stata curata da Wim Wenders si fosse aperto un mondo. Nella prefazione quindi si parla di chi ha scritto dei libri, di chi semplicemente tiene una rubrica online, di chi lo fa di mestiere, di chi lo fa semplicemente a scopo di divertimento per pura divagazione e poi concludo con alcune mie predilezioni di cui se c'è tempo poi ne parlerò più avanti. E adesso Giorgio tocca a te. Cosa fai? Ti ho acceso. grazie a tutti per essere qui a questa presentazione. Non mi aspettavo tanta solidarietà e amicizia. Detro di me stanno scoprendo le foto dei bellissimi edifici di cui parlo in lì. non amo parlare in pubblico e se accade non sempre parlo sul serio ironizzo su tutto lasciando a chi mi ascolta di capire se mento o dico la verità. Mi spiace spargere il dubbio perché non credo al raggiungimento di verità assolute attraverso il ragionamento le opinioni il dialogo. C'è una battuta che riassume quello che voglio dire. Va tutto bene ma c'è del marcio nella CIA. Ora ditemi che film ho citato e quali importanti architetture si vedono? Dopo? 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 Ah, scusate. Quando Riccardo mi ha proposto di curare una nuova rubrica architettura e cinema su Inarc Piemonte sono stato restio ad accettare per la semplice ragione che pur considerandomi competente in entrambe le discipline non la reputavo cosa facile. Cosa potevo scrivere di piacevole coinvolgente interessante senza annoiare ed annoiarmi? Qualcosa che fosse diversa e lontana dagli scritti e dei tanti direttori dottori professori critici cinematografici e cultori dell'architettura veri o presunti tali tutti autori di libri e articoli su riviste importanti di cinema e architettura diversa anche dalle schede scientifiche e dalla documentatissima Wikipedia lontana dai molti siti che trattano lo stesso argomento ben citati nell'introduzione di Riccardo Vedrone cosa potevo dire in più che novità dovevo ho pensato cercare di interessare i miei colleghi architetti non proprio di gusti facili non disponibili a banalità e a luoghi comuni sempre in polemica con il mondo in più senza sfoggiare opinioni e concetti complessi da puro e insopportabile intellettuale comunicare e far divertire sorridere ironizzare è sempre stato fin da ragazzo alla base del mio vivere quotidiano del lavoro professionale letterario e artistico impossibile per me prendere sul serio la vita la considero un incidente demenziale un fatto che mi è capitato all'improvviso e mi perseguita da quando ho tre anni e so di essere però girala come vuoi la vengente andata come voleva Riccardo è uno che non molla mai ed eccomi qui con voi e lui a commentare la raccolta dei miei scritti su architettura e cinema pertanto preso l'impegno ho torto collo mi sono messo all'opera rassicurato da Paola Valentini direttrice della rivista ho subito in arc ho subito scritto una quarantina di articoli nel giro di qualche mese garantendo così di qualche mese ma non è vero ma no ma no ma ti confondi perché c'è la prima versione la seconda versione corretta perché io mandavo per cercare di avere da voi un contributo minimo cioè nel senso un incoraggiamento non mi rispondevano mai prendevano e stavano zitti poi li vedevo pubblicati in in arc nel giro di qualche quarantendo così alla rivista tre anni di pubblicazioni coerenti stilisticamente cosa per me tecnico della comunicazione fondamentale poi Ezio Quarantelli l'editore di Lindau c'è ciao Ezio generosamente mi ha proposto di raccoglierle in una bella edizione nel libro ne sono stati pubblicati 80 su 110 quello di leggere un film a diversi livelli è un'abitudine tipica del cinefilo un buon film solitamente il cinefilo un buon film solitamente ama un regista o predilige un genere horror western azione guerra thriller eccetera un buon film lo vede un buon film lo vede e lo rivede nell'arco della sua vita divertendosi sempre proprio perché la sua visione non lo esavorisce mai essendo difficile da accogliere nella complicità nelle sfaccettature specialistiche per via dei differenti livelli di lettura ne cito alcuni registici tecnici documentaristici fotografici scenografici coreografici musicali testuali dialogali architettonici urbanistici paesaggistici alla costruzione di un film partecipano decine di tecnici artigiani e artisti come proprio accade nella costruzione di architetture di piccole e di grandi dimensioni le due discipline sono paragonabili come impegno collettivo oggi è molto facile vedere e rivedere quasi tutti i film della storia del cinema non c'è bisogno di uscire di casa ci sono molte possibilità basta cercare su internet ma negli anni 70 per vedere i vecchi film dovemmo con Baldo Vallero mia moglie Oliva Stefano della Casa e altri giovani fondare il movie club un'associazione volontaristica per la diffusione della cultura cinematografica e la salvaguardia di pellicole destinate alla distruzione anche il nostro fu un enorme sforzo collettivo negli articoli mi sono concentrato doverosamente sull'architettura e l'urbanistica ma spesso anche su altri aspetti a me congeniali filosofici ad esempio sul sacro e la sacralità dell'opera d'arte quale momento di espressione intuitiva coscienziale libera da ideologie e quindi non è esecrabile per ragioni politiche e religiose molti sono gli articoli in cui non solo a margine cito Torino confrontandolo con le altre grandi città del mondo Milano Roma Parigi Vienna Los Angeles New York Londra Tokyo Kuala Lumpur Berlino per me Torino dal punto di vista urbanistico architettonico del vivere piacevolmente la più bella e importante di tutte anche se nel dopoguerra malgrado la presenza di bravi architetti urbanisti a causa di pessimi politici nonché di un'imprenditoria egoista è stata malgestita con l'abbandono dell'idea aulica e aristocratica per privilegiare quella ideologica della città fabbrica però la mia critica è giustificata dal raffronto con un esempio virtuoso contemporaneo nel libro c'è un capitolo dove descrivo una nuova città fabbrica giardino dell'automobile di 160.000 abitanti cresciuto da zero in 80 anni grazie proprio alla visione lungimirante dei suoi amministratori e dei lavoratori italiani una città dove la seconda lingua è proprio la nostra scrivo scrivo anche delle belle architetture che i miei colleghi hanno costruito nel dopoguerra ma spesso di quelle orribile come la piazzetta dedicata a Carlo Mollino il fucsas di Porta Palazzo lo scempio di Palazzo Vela della Volenti lo stato di abbandono del Palazzo del Lavoro in corso Unità d'Italia la devastazione di Piazza Valdofusi l'abbattimento del Centro Congressi di Corso Stati Uniti o la bellissima Via Ormea devastata dalle orribili firmi di vandali depensanti e molto altro a volte infilo anche storie di vita vissuta con mia figlia mia moglie o con i nipoti fratelli cugini genitori zii nonni compresi bisnonni e trisauli per lo più imprenditori architetti design e per combinazione anche tra i primi in Italia a credere nel cinema mio nonno Vittorio Umberto aprì nel 1914 il primo cinematografo di Milano su Licenza Patè insomma il libro è una sorta di autobiografia di un anarcho archicinefilo taluni dicono anche reazionario in sostanza un abbandono al flusso creativo quello che arriva dal cuore quello che mette in moto automaticamente la mano dello scriva stessa cosa mi succede con il progetto il disegno qui a volte mi faccio aiutare a De Dioniso non tanto come Dio del vino quanto del delirio mistico lui quando lo invoco arriva sempre suggerendomi cose divertenti eccentriche iconiche tanzantiche però state attenti c'è del marcio della CIA sì comunque non pensate non pensiate che lui abbia smesso di scrivere non più tardi di qualche giorno fa mi è arrivato un altro articolo su un altro film Down in the Valley e sono sicura che la settimana prossima ce ne arriverà qualcun altro perché la vena di Giorgio è davvero inarrestabile vuoi aggiungere qualcosa Riccardo? come ha anticipato Giorgio nelle sue schede c'è una ricorrente citazione di Torino delle sue bellezze e anche delle sue brutture e non è secondaria è in testa i suoi pensieri sicuramente mi sono fatto un lavoraccio per lui che non voleva farlo ecco e ho visto che Torino è la città più citata su 80 schede Torino è citata 149 volte poi c'è una gran prevalenza di film americani ambientati in città americane che sono New York 111 volte Los Angeles 73 volte mentre ah sì e Hollywood 59 volte il che vuol dire che la larga prevalenza dei film in cui c'è un'architettura meritevole di essere ricordata è girata in America poi ci sono molte città europee cito per esempio Roma 61 volte Berlino 38 Vienna 15 Parigi 44 Venezia 30 e poi via via tutte le altre Milano che è la città di origine della sua famiglia 24 volte altre città italiane invece sono piuttosto trascurate comunque c'è un panorama di descrizioni di città nei film che è straordinario c'è da visitarle tenendo tenendo questa scheda queste schede sotto mano perché come diceva Paola è bravissimo non soltanto nel descrivere dove si svolge l'azione ma in che modo questa azione anzi questa scenografia è diegetica spieghi tu cosa vuol dire diegetico naturalmente diegetico è come se fosse un interprete principale ecco dell'interprete principale anche l'architettura è l'interprete come gli altri interpreti gli altri attori gli attori diegetico ma lui lo dice da tecnico io l'ho imparato studiando per poter fare la sua prefazione altrimenti non avrebbe avuto senso a molti mi hanno chiesto cosa vuol dire diegetico ma nel gergo cinematografico del critico è normale ecco questo per dire che con lui si viaggia ma si viaggia non soltanto parlando di film ma parlando di città e questa è una cosa straordinaria come ha detto Paola moltissime notizie che lui ci fornisce parlando di film risultano sconosciute anche alle persone che sono piuttosto attente a queste cose e ci fa scoprire degli edifici e degli autori che sono percepibili magari per la loro bravura ma di cui non si conosce il nome fino a quando lui non ce lo fa scoprire una cosa posso dire però per concludere per dare poi di nuovo la parola a lui l'architetto che più cita e che in generale tutti coloro che hanno studiato il rapporto fra architettura e cinema sottolineano è Wright Wright è il campione assoluto degli autori di architetture che compaiono al cinema è considerato una sorta di pietra miliare e poi via via vengono molti altri una cosa curiosa poi dirò poi quali sono i titoli ma chi in generale si occupa di questo tema conclude i suoi studi le sue ricerche i suoi saggi magari soltanto i suoi articoli indicando quelli che a suo parere sono i film più interessanti per parlare di architetti e architetture si contano sulle dita di una mano e cioè a partire da Metropolis per arrivare fino a Blade Runner non di più in generale il mondo non si accorge di quanto sia vario e complesso si gira intorno ai 60 70 film al massimo al massimo questo per dire come lui ci fa scoprire molte molte altre cose beh no io ho un elenco di ho già fatto un elenco solo che loro non li vogliono più i miei articoli ma non è vero io ho già fatto un elenco di più di 200 film che ho visto che sì perché sono cioè il cinema un cinefilo va alla ricerca di film sempre nuovi quindi magari si prende anche dei bei bidoni si vede su ogni 100 film che vede uno ne puoi scegliere uno su 100 film quindi i bidoni me ne sono presi una quantità enorme però è tale l'amore per il cinema che voglio tutto e tengo il buono in bocca sembro succhio e devo dire che nei suoi articoli ci racconta anche quale architettura gli piace di più perché all'inizio ha cominciato con le architetture degli anni 30 no no con Ex Machina il primo sì primissimo è stato Ex Machina ma poi c'è una carrellata di di ville di architetture però sono tutti fra i tiani cioè sì tutti sì perché l'architettura inserita nel paesaggio l'architettura aiutatemi a ricordarlo perché stasera sono profuso l'architettura organica ecco che poi è quell'architettura di cui proprio Zevi Bruno Zevi aveva fondato un'associazione proprio di architetti che girano e insomma si interessavano all'architettura organica tu sei un professore di urbanistica sei tutto è che lui si prepara proprio bene bene perché lui è preciso è il professore Paola ci ha detto prima che l'articolo di Giorgio che ha suscitato il maggiore interesse è quella su Intrigo internazionale che è veramente un film bellissimo non so quanti se ne ricordano è un film di Hitchcock con Cary Grant e Eve and Mary Scent se non sbaglio sì ma soprattutto è ambientato in una villa e poi vicino al monte Rushmore che è una delle più interessanti e che compaiono anche in altre circostanze vuoi dirne qualche cosa di questo? all'inizio pensavo che la villa fosse stata costruita proprio a lato di fianco al monte Rushmore invece la villa è un modello quando si vede la torre principale correre modello in scala metti una due quando si vede la torre correre verso la villa c'è anche una foto nel libro trovate un'immagine di Cary Grant che corre verso questa villa quella è una ricostruzione di studio cioè non è reale come non sono reali le 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 teste dei dei presidenti degli Stati Uniti quando gli attori rischiano la vita scalandoli anche quelle sono state costruite in studio con costi di di artiginosi Hitchcock basava tutto sull'architettura e quindi molto sull'architettura e poi e pretendeva di costruire intere città quasi pur di magari per girare cinque minuti di di pellicola senti tu non hai ancora fatto la scheda non so se è tra quelle depositate di un film che trovo bellissimo sulla vita moderna di Jacques Tati che si intitola Playtime no non l'ho mai fatta perché non ne hai parlato perché avevo già fatto quella su Monocle ma questo è più interessante e questa lui ha ricostruito una città intera esatto che voleva donare una città completamente trasparente cioè fatta di vetro dove descriveva la vita moderna una città contemporanea la città dei grattacieli e lui l'ha già inventata perché aveva uno scenografo grandissimo gravissimo che non mi ricordo non e e su quel film lì l'ha fatto fallire addirittura cioè lui ci ha rimesso proprio proprio sì lui l'aveva costruita per farla diventare un piccolo quartiere della città di Parigi vissuto lo voleva donare alla città di Parigi la città di Parigi non l'ha voluto perché costava troppo e lui è fallito ha chiuso la sua carriera certo purtroppo poi il film diciamo non mi è mai piaciuto tantissimo rispetto ai primi che ha fatto quindi però se hai bisogno della scheda della scheda la faccio la faccio per te metterò una dedica questa è per Riccardo quando la pubblico comunque come vedete dalle foto che passano dietro di noi le architetture sono davvero come dire le più le più varie e le più anche come dire non sconosciute ma che nessuno di noi si rende conto spesso di averle viste in quei film e questa è una cosa fantastica che ci offre Giorgio nei suoi testi però le immagini sono sulle immagini in realtà non nel libro perché sono state fatte da Giorgio ma sul newsletter c'è un grossissimo lavoro perché lui scrive lui quando ha voglia fa l'editing adesso è un po' che non lo fai ti sei un po' impigrito perché devo sforbiciare le parti più polemiche per esempio quando lui parla di Gaia Olenti quando parla di Gaia Olenti io devo è una stupatrice seriale è una stupatrice seriale la Gaia Olenti questo è il tono quindi insomma ogni tanto facciamo qualche taglietto per la Gaia Olenti lei prende un edificio fatto dai rigotti bellissimo toglie tutte le 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 toglie tutte le vetrate le vetrate per mettere sotto un'architettura brutalista che ormai il brutalismo era anche passato di moda oltretutto un'architettura e non è neppure utilizzato la volta a vela ma ha fatto un nuovo tetto secondo voi una che fa un'operazione del genere si può parlare bene una che prende una cosa bellissima e per il suo ego ipertrofico no per mettere la propria come dicono pisciatina d'architetto deve bisogna apprezzarla bisogna dire quello che si pensa invece qui tutti zitti sono il primo sono il primo che ho detto sta cosa insomma poi anche altre cose non c'è solo magari volenti chi altri vuoi parlare? no io voglio parlare mi piacerebbe parlare del grattacielo di Fuxas ma non perché non mi piace ma perché è lì e non si usa ed è costato 260 milioni di euro doppia parete di vetro utilissima come tutti sanno esplodono in continuazione i vetri perché? perché da edificio in ferro in acciaio non so l'hanno trasformato in acciaio cemento così le due le due materie e il progetto l'hanno fatto in seguito sul vecchio progetto e il risultato è che questa roba si muove in modo differente il cemento si muove col caldo e il freddo si muove in modo si dilatta e si restringe in modo differente quindi si crea dei problemi si staccano le piastrelle dai bagni si riformano delle crepe in continuazione il problema del grattacielo di Fucsas non è solo questo io ci sono passata questa mattina nella mia passeggiata che mi ha comportato la caduta ma è sotto lo spazio pubblico intorno non esiste non è progettato si passa attraverso lungo via Nizza tutti quelli che passavano testa bassa più veloce possibile perché per andarsene più in fretta possibile da quel posto che è veramente terribile secondo me è un'occasione perduta perché poteva essere uno spazio pubblico molto più interessante lo stesso secondo me anche quello che succede sotto il grattacielo di piano ma non perché sono grattacieli ma lì è la spina lì la spina sono tutte occasioni perdute per farli diventare degli spazi in cui la gente passa fa delle cose ci vive invece che essere soltanto la rappresentazione di se stessi certo senti un film di cui non hai parlato ma che secondo me potrebbe essere interessante se li hai cercati tutti perché sono più di cento quindi se li hai cercati tutti è un bastardo eh sì ti volevo mettere in difficoltà eh già allora il film è credo un'arma letale o due o tre eh no ce l'abbiamo un'arma letale due l'ho fatto ce l'abbiamo perché ce l'avete ma non l'ho pubblicato non l'ho ancora pubblicato no non l'ho pubblicato ah non l'hai pubblicato lì allora ce l'abbiamo noi è quello dove parlo di Markut mi sembra di sì quello in cui viene sradicata la villa con un trattore ah sì non l'ho pubblicato di chi è la villa ma anche quella è una maquetta è di Lautner la villa è di Lautner Lautner è uno dei insieme a Vrai tra gli architetti più usati utilizzati nel cinema Lautner sì è vero e Lautner è un genio totale assoluto e quelle sue costruzioni sono quasi tutte a Los Angeles è vero un'altra cosa che non so se hai già scritto ma che mi pareva interessante da citare da schedare è un film che si intitola Lisbon Story no non l'ho visto di un regista tedesco Lisbon Lisbon Story ah Lisbon Story no non l'ho mai visto che è ambientata in una Lisbona bellissima lo conosci sì no conosco il film ma non l'ho mai visto conosco conosci il film non l'hai mai visto è interessante e come fai a schedarlo allora erano lo scheda non lo sapevo finiva così senti un'altra domanda che ti vorrei fare tra Blade Runner e Blade Runner seconda serie ah sono due film completamente diversi ecco perché uno Blade Runner sono tutti un capolavoro quando Oliva e Dio lo dicevamo appena uscito tutti non andavano non andavano a vederlo perché il genere fantascienza non era ancora così apprezzato sì sì certo però di Ridley Scott Ridley Scott è uno dei registi che io prediligo infatti nel libro ci sono cito parlo di quattro film di Ridley Scott però apprezzo anche Villeneuve è bravissimo Villeneuve è un regista quello che ha fatto la donna che canta e poi un altro che adesso mi viene che parla sempre di eroine questo Villeneuve di eroina non nel senso di no di eroina quella del buco no di eroine quelle sì donne eroine ho capito me l'hai fatto capire e poi di situazioni sempre disperate che si svolgono sempre in zone desertiche e sono film che devono essere visti non come faccio a dire cosa preferisci io preferisco sempre il primo Blade Runner perché Ridley Scott è il mio registro uno dei miei registi preferiti insieme a Pollack volevo dirvi ma quello che ha fatto il film su su quell'architetto ha fatto un film su un architetto un documento ah sì quello lì è Sidney Pollack quello che ha fatto il film su sull'architetto su Khan mi pare eh Lewis Khan no quello lì il film sull'architetto è fatto da Pollack che è amico di Gary ah su Gary sì l'ho trovato pannoso e anche anche quello di cui vi ho chiesto vi ho fatto la domanda all'inizio il film è i tre giorni del Condor di Sidney Pollack ah vedi che ti ho dato ti ho offerto la possibilità di spiegare sì finalmente per caso però c'è del marcio nella CIA vero? c'è del marcio nella CIA ecco quando uscite di qua c'è del marcio nella CIA e il si vede una New York proprio si vede proprio Pollack che ama la sua città in modo viscerale perché tutto il film si svolge proprio nella città e si vedono moltissime opere importanti tra cui i dodici punti di New York 12 punti che conducono la Manhattan si vedono però due opere pazzesche uno è il Guggenheim di Wright ma l'altro sono le due torri gemelle di Minoru Yamazaki che è un giapponese che si è naturalizzato sì è morto no sì lui è morto è morto sì sì è lettori soprattutto è lettori però lì se volete vedere lettori lì le vedete l'ingresso dall'alto da sotto e anche gli uffici e dalle finestre degli uffici potete vedere New York dalle torri per dire è una testimonianza di edifici scomparsi esatto c'è un'altra che tu hai citato il cielo sopra Berlino è il cielo dove si vede la Postdamer Platz prima che cominciassero a ricostruirla esatto certo quindi prima degli interventi è più bella adesso effettivamente è più bella adesso senti una domanda per tornare a Torino nell'articolo che ho comparso ieri sul Corriere si dice che tu hai citato tre film soprattutto che descrivono meglio l'anima di Torino e sono Senso le amiche e no Senso no Senso no le amiche le amiche poi quello di scusami perché devo fare in mente l'occasione poi c'è Italian Job va bene Italian Job e poi c'è quello che si svolge dentro la mole dopo mezzanotte bravi dopo mezzanotte scusate ma sono un po' fuso anch'io ma perché citi questi tre film? eh ma per forza ma no il primo perché si svolge cioè Italian Job si svolge totalmente a Torino ma non c'entra niente con Torino poteva svolgersi in qualsiasi altra città sì però alla nostra città lì viene si viene vista in modo continuo per un'ora e di seguito è vero queste stupide ma il furto poteva svolgersi a Tokyo a Istanbul perché poi hanno fatto dei remè non è che Torino era necessario non so perché l'hanno scelta forse perché Mini lanciava questa macchina nella città della Fiat nella città della Fiat loro svaliggiano o no fanno un assalto a un furgone con i denari della Fiat che porta chissà in quale paradiso fiscale e cercano di arrivare con le Mini a un elicottero a un aeroporto uscire andare in Svizzera poi c'è stata anche una problema di quel film lì che a volte insomma fanno qui c'è una sovrintendente fanno scendere fanno scendere le Mini dagli scaloni di Palazzo Madama io me lo ricordo perché avevo fatto la comparsa in quel film ecco vedi tu dove si fanno le caracce ero studente e ci davano parecchio per fare la comparsa quindi le scene di massa io tu eri proprio sulla scala che scendevi insieme alle Mini e guidavo una Mini e guidavo una Mini esatto e poi l'altro parla parla proprio della Mole si svolge dentro la Mole e poi si svolge ai quartieri di ragazzi ho perso la memoria completamente capita in periferia dove hanno costruito nel no le Vallette l'altro a Falchera si svolge la Falchera e quindi si vedono le realtà secondo me molto importanti nella storia dell'architettura torinese adesso ti faccio una domanda difficile ecco io nella prefazione ho detto che c'è una serie di film che era nata come trasposizione cinematografica di romanzi la serie di Harry Potter e questi romanzi erano nati come letteratura per ragazzi e quando si è trattato di farne dei film i produttori dicevano saranno cinema spazzatura invece hanno travolto ogni record di incasto allora non discuto della qualità ma delle ambientazioni che sono la trasfigurazione di località reali sono straordinari certo tu cosa ne pensi? ah sì giustissimo giustissimo tutto lì quello che mi dici ma cosa vuoi che ti dica? io mi fai una domanda abbastanza imbarazzante appunto è un genere che io non amo molto l'ho capito e allora tu lo fai apposta e quindi non lo trovate nel libro Harry Potter è un genere anche da un punto di vista letterario è un genere che non amo molto ma non devi guardare il tema no no ma io guardo questi film però sono stati fatti da bravissimi registi certo e quindi prima o poi ho torto collo dovrò dovrò le guardarne certo ecco perché i registi che ogni non sempre non c'è sempre lo stesso regista così come come in James Bond o questi film di Bond cambiano i registi ma sono sempre bravissimi sì sì certo ci sanno fare ci sanno fare ok un po' di Grazie a tutti.